Partita dura e che siete riusciti a riagguantare nonostante l'inferiorità romerica, come è andata? È stata una partita difficile, sapevamo di venire contro una squadra ostica in un campo difficile dove non ci permetteva di giocare il terreno, però nonostante gli episodi, comunque tra rigori o rossi siamo stati bravi a riprendere e a portare a casa un punto che è sempre importante. Continua il momento positivo, qual è l'obiettivo di fine stagione? Noi pensiamo partita per partita, l'importante è non perdere la domenica prossima dovremmo pensare già a domenica prossima a vincere e prendere più punti possibili per la finale. L'episodio dell'espulsione l'hai visto? Come è andato? Abbiamo perso un pallone stupido e in partenza siamo stati sfortunati che un rimballo è andata sulla mano il nostro capitano è stato espulso. Grazie!